Editori, librai, bibliotecari, distributori e traduttori hanno messo a punto il programma del 31esimo Salone del Libro, destinato agli operatori professionali. Una sezione speciale intitolata Mestiere del Libro raccoglie il lavoro nato dal confronto tra le innumerevoli sigle della filiera del libro, frutto di un centinaio di incontri. Il tavolo si era riunito per la prima volta a Torino lo scorso mese di febbraio ed ora ha reso noti gli appuntamenti di carattere generale, quelli per le scuole e quelli per i librai e i bibliotecai. Fra gli appuntamenti di carattere generale c'è l'annuncio della nascita di Adei, la nuova associazione degli editori indipendenti, in cui confluiscono Odei, Fidare e amici del Salone del Libro. Il loro incontro è fissato per giovedì 10 maggio alle ore 13 nella Sala Blu. Per le scuole il Salone offre una vetrina informativa sui mestieri del libro. Librai e bibliotecari si incontreranno in un convegno annuale con un confronto sul tema della distribuzione. E poi ancora alcune lezioni aperte della Scuola Librai Italiani, mentre i bibliotecari del LIB, oltre alla propria assemblea annuale che si tiene proprio al Salone, propone un incontro sui dati Istat della lettura. E poi il programma prevede anche un calendario per i traduttori, uno per le nuove tecnologie, con un focus speciale sulle riviste letterarie online, e poi ancora audiolibri ed e-commerce e molto altro ancora. Il programma, dettagliato e consultabile nelle sezioni tematiche del sito salonelibro.it e sull'app Salone del Libro, scaricabile gratuitamente.